Marchigiana Mobile. Eh, molto pesante, cucina bella! Hai visto? Ma questa, questa, cosa è qui? Sono i piatti, fermo. Le posate, stia fermo, fermo. Questa, cosa è qui? Questo è il tavolo. Questo è il tavolo? Sì, stia fermo. Questo è questo. Piano cottura, visto? Questa, cosa è questa? Sì, per le pezze. Ecco, ecco. Così impara, visto? Marchigiana Mobile. Eh, è bella sta poltrona. Comoda signora. È bella, dove l'ha presa? Ma mica è finita. Guardi signora, ci sono gli effetti speciali. Lei si è pronta, vada giù. Guardi un po', guardi un po'. Si rilassi, guardi. Oh signora, te cosa fai? Me lavi la testa? Eh, cavatezza signora. Me la lavi? Guardi, guardi, guardi in un secondo, guardi che succede. Su, 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 su. Guardi che roba bella. Ancora più su o basta così? Non alza troppo che avete la bella. Ecco, vediamo giù. Come si trova? Vogliamo andare su e giù, su e giù. E me che già mi rabila andiamo a chiuso questa roba. Che bella. E poi guardi, ci sono anche delle palle dietro che girano. dietro, ci sono delle palle che girano e massaggiano. Ma come massaggiano? Con le lunghe? E me se mi metto prona, mi massaggerà qualcos'altro. Ma cosa dici signora? Ehi, stia comoda, stia comoda. Vado avanti così. Si, stia comoda. Vado avanti così, vado avanti così. Ma cos'è qua? Mi capotti proprio. Va a piangere. Va bene. Ma mi metti i piedi? Allì. Allì, puoi alzarsi i piedi. Va bene. A posto. Alpin già lavora. Va bene, vai. Salve signora, ci vediamo. Ciao, ciao a te. Ma va anche una roba bella, sta fortuna. E anche bella. Arreda, va anche una roba bella.